buona sera a tutti benvenuti ad autori ai domiciliari come avete visto questa è stata una settimana particolarmente intensa perché abbiamo avuto ben tre interviste e le scorse interviste sono state estremamente piacevoli e quella di oggi sarà oltretanto superlativa perché abbiamo il piacere di avere qua con noi un bravissimo autore il nostro maurizio tale benvenuto maurizio grazie a te buonasera tutti gli ascoltatori diretta e streaming e le ascoltatrici allora maurizio per me è veramente un piacere poterti riospitare qua dopo le domiciliari perché come sapete io ho avuto il piacere di intervistare il nostro autore io vi ricordo che maurizio dareazzo è proprio uno specialista di quello che potremmo definire il genere allora un genere contaminato che è quello che piace a me e che deve essere che ho con la marcia più fantascienza misteri surreale e abbiamo presentato vi ricordo e poi ce lo ricorderà il nostro autore almeno un paio di libri e questa sera presenteremo l'ultimo suo libro pubblicato però come al solito io voglio partire da questa domanda base maurizio come va tutto ok tutto bene tutto bene diciamo che non ho avuto nessun ulteriore problema se anche l'ultima volta aveva appena avuto il covid per fortuna pur essendo pur essendo ritornato pare in auge da un po da qualche giorno da qualche settimana però per ora siamo per il resto tutto bene essendo pensionato mi riposo e a te perché molti non avranno questa pensione si sta già che molti se la scorderanno oppure dovranno lavorare fino a 70 anni prima di avere la pensione ovviamente moriranno prima e ce ne sarà una bella sfizza che la pensione proprio non la vedrà quindi detta questa questa battuta di humor nero eh vi ricordo che eh il nostro ospite il nostro scrittore è in collegamento da Genova quindi ehm sarà una serata all'insegna della genovesità eh io e maurizio siamo non lontanissimi eh io voi lo sapete io ehm trasmetto da Genova a Marassi quella che un tempo avveniva chiamata città giardino che ahimè ormai è una S città giardino nel giardino non rimane praticamente quasi più in giù invece Maurizio Galeazzo è proprio mh collegato dal centro dal cuore di Genova eh partirò come al solito leggendo degli estratti del suo ultimo pubblicato ve lo mostro subito guardate qua i 300 bambini porto seguro edizione guardate che bella copertina una copertina molto elegante eh guardate com'è lucida e io quando ho queste copertine così elegante così lucide ho sempre questo maledetto riflesso ecco ve lo sposto un po' così è tutta sui toni del grigio e poi un rosa violetto eh quindi fucsia eh e quindi molto molto elegante e molto evocativa quindi capirete poi il significato no? Fiamo questa luce dall'altro scende giù e capirete quanto questa copertina sia azzeccata al contenuto lo dico sempre solo e soltanto il libro perché un libro di un libro si può parlare ma poi un libro va l'altro non c'è sempre allora esatto io poi ci tengo appunto a parlare del libro senza parlare del libro chi mi conosce lo sa gli autori lo sanno e io non voglio spoilerare nulla lascio che sia l'autore a spoilerare quello che desidera perché è giusto che sia l'autore a scegliere ritengo sia eticamente corretto prima di partire con la lettura voglio eh ricambiare ovviamente assieme a Maurizio Gaveazzo eh i saluti di una carissima amica che è Minerva Glicine che segue spesso autori domiciliari quindi Minerva grazie per essere qua con noi stasera sia io che Maurizio ricambiamo i tuoi saluti con tanto affetto ehm Maurizio Glicine scusate ho fatto una crasica Minerva Glicine è una detta ai lavori nel senso che è una persona un'esperta dell'editoria ma è una persona molto umile perché quando io la definisco lei si nasconde dice no no non dirlo è troppo no invece adesso lo dico Minerva quindi se vai tappati le orecchie perché Minerva è una bravissima editor e anche io la definisco una social manager perché è molto brava in questo campo e mi sta ehm mi sta aiutando tantissimo perché io non riesco a fare tutto in certe cose soprattutto in social in questa nuova tecnologia non sono non sono diciamo molto molto abile molto capace mi manca siamo dei boomer siamo dei boomer esatto io questi mezzi li ho acquisiti li ho dovuti approcciare per forza ma non sono nata con i smartphone in mano non sono nata quando già esistevo in social quindi ho bisogno di persone come Minerva che invece sono ehm in gamba ne sanno più di me e mi danno una grossissima mano io soprattutto ultimamente da settembre in poi non dicevamo con Maurizio dietro le quinte ho dovuto mettere mani a molte cose e Minerva mi ha aiutato veramente tantissimo quindi eh un grazie mi approfitto per fare ehm questo ringraziamento pubblico a eh Minerva vicine anzi vi dico anche questo essendo anche editor contattatela se avete video o correzioni di box ed edili perché è veramente una persona molto in gara torniamo a noi partiamo quindi con la nostra lettura quindi noi Maurizio Galeazzo diversamente giovani abbiamo bisogno degli occhiali perché ahimè senza questi io non posso leggere il tuo bellissimo libro quindi da i 300 bambini di Maurizio Galeazzo e partiamo molto bene eh perché vi faccio vedere qua non troppo perché vi è una bellissima dedica la dedica è mia però è ovvio quando un libro ha una dedica ha una marcia in più è ovvio una dedica su un libro è per me è una cosa che non apprezzo è una cosa bellissima mi fa molto piacere perché per me il libro non è un oggetto è un qualche cosa di speciale è come quando una persona ti dedica un libro è come se ti dedicasse a se stesso no la sua anima parte di sé e questo secondo me è una cosa fantastica quindi per non dire da i 300 bambini di maurizio 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 galeazzo incipit per lui quel 20 agosto del 2022 non sarebbe stato un giorno come tanti altri seppur particolare perché era quello del suo sesto compleanno ma si sarebbe trasformato nel corso della sua vita in uno di quei giorni che diventano significativi un giorno che finisce per rimanerti stampato nella memoria un giorno al quale inizialmente non dai peso ma che si rivela col tempo rilevante per la tua esistenza fisico minuto e leggermente più alto della media degli altri sei anni era empatico e quasi sempre sorridente con tutti con un'intelligenza decisamente più vivida dei suoi coetanei una curiosità che invece era condivisa con quasi tutti i bambini della sua età una cascata di riccioli biondi faceva dal contorno a un ovale regolare all'interno del quale spiccavano due grandi occhi azzurre quella mattina aveva fatto proprio una levataccia ma ne era valsa la pena era ancora buio quando era uscito assieme a mamma e papà dalla loro villetta che affacciava sul music lake subito dopo la riserva naturale di hills e a poco meno di otto chilometri dalle prime case di scranton ricca cittadina di circa 80 mila abitanti nella zona nord orientale della pennsylvania saliti sulla station wagon di famiglia in un quarto d'ora avevano raggiunto il parcheggio multipiano al centro della città lasciato il quale in cinque minuti a piedi erano arrivati al termine degli autobus per prendere alle sei in punto uno dei tanti bus della mtrak diretto a new york un mezzo della green hound in partenza dal queens nel tardo pomeriggio gli avrebbe riportato a casa poco prima delle 22 l'entusiasmo che pervadeva il ragazzo era determinato non tanto dal viaggio verso la big apple aveva già visitata sempre con i genitori da pochi mesi e anche meno di un anno prima in gita con l'asilo al parco a tema di legoland ma dalla promessa di trascorrere un intero pomeriggio da f a o schwarz il più antico e famoso e uno dei più grandi negozi di giocattoli della metropoli dove poter scegliere il regalo per il compleanno seppur con un tassativo limite economico di 150 dollari il risveglio antelucano ebbe però il sopravvento sull'eccitazione e il bimbo crollò a dormire per quasi tutte le sei ore abbondanti di percorrenza il bus puntualissimo scarico il trio nel parcheggio vicino la pan station a mezzogiorno e 40 precise da lì al negozio non ci sarebbero voluti che una ventina di minuti di tranquilla passeggiata a piedi passavano passando per la 6th avenue lunga la strada un venditore ambulante di hot dogs contribui a placare la fame dell'intera famiglia già soffermandosi a bocca aperta di fronte all'ampia vetrato dell'ingresso il bimbo pregustava ciò che lo avrebbe atteso durante l'intero pomeriggio una sorta di paese di tempo una mecca del giocattolo fatta di soggetti meravigliosi dove perdersi e tra i quali soprattutto scegliere il suo regalo ma è un posto bellissimo riusci solo a dire prima di parcarne la soglia e strappando un sorriso ai genitori dopo tre ore passate a visitare minuziosamente ogni anfratto del negozio e trovando anche molti dei giocattoli esposti fece infine la sua scelta una bicicletta in legno senza pedale marca stai studiata apposta per far apprendere i primi rudimenti di ciclismo ai bimbi della sua età così quando sarò più grande avrò imparato ad andarci me ne compro una vera e vado a scuola in bici sentenza così che però costa 165 dollari come facciamo intervenne il padre fingendosi serio ricordando di un modo indiretto il limite economico di spesa al quale si sarebbe dovuto attenere vabbè dai i 15 dollari di differenza ce li metto io mi riscaldi dalla paghetta settimanale rispose altrettanto seriamente il ragazzo dalla sua nascita infatti i due coniugi avevano deciso di destinare al figlio una rendita settimanale pari alla sua età negra quindi un dollaro a settimana per il primo anno due per il secondo tre per il terzo e così via fino alla maggior che la donna la donna ogni 20 agosto ripeteva il rischio dell'affissione dei volantini sui muri della città la scritta che il ragazzo non era stato in grado di decifrare recitava di in bloomberg sparito il 20 08 2002 e al di sotto della foto di sinistra era presente la dicitura di a sei anni mentre sotto quella destra ricostruzione fotografica di di a 26 anni una volta terminata quella greve incondenza si recava nell'ufficio dello sceriffo per chiedere se c'era qualche novità in merito alla scomparsa del figlio ogni anno l'anziano sceriffo le faceva faceva accomodare con la solita espressione di convenienza appiccicata sulla faccia le ripeteva le stesse parole mi spiace signora ma anche oggi non c'è niente di nuovo la capisco ma deve decidere di farsene una ragione ormai sono passati vent'anni e la possibilità che ritrovi chiedin sono e come le volte precedenti non riuscire a terminare la frase io lo so interrupe duramente la donna io lo so chiedino vivo che era la frase che ogni 20 agosto ripeteva come un mantra allo sceriffo vent'anni prima intorno alle 4 del pomeriggio di quel giorno la donna era appena uscita dal grande supermercato ai margini della città diretta al parcheggio con il figlio all'epoca 6 yenne accomodato nell'apposito scomparto del carrello giunta all'auto aveva ripetuto in preda alla disperazione componenti della pattuglia accorsa sul posto dopo la sua accorata richiesta di aiuto al 911 prima di tutto ho messo di in macchina assicurandolo con l'imbragatura sul sedile posteriore come faccio sempre e poi ho cominciato a caricare la spesa nel bagagliaio a un certo punto una luce fortissima come un flash avvolto è una luce dice e per quanto tempo è durata questa luce fu interrotta non saprei dirle esattamente quella risposta direi solo qualche decina di secondi ma poi per un tempo altrettanto lungo non sono riuscita a mettere a fuoco la realtà circostante in tutto credo meno di un minuto e subito dopo si accorta che di non c'era più e questo signori era solo un breve assaggio brava come sempre grazie Maurizio io ce la metto tutta cerco di mente rende al meglio la bellezza e il mistero che è presente in questa storia spero di aver suscitato un po' la curiosità di chi ci sta ascoltando o di coloro che ci ascolteranno in difesa a questi punti io come al solito farò la domanda di rito perché molti di voi sicuramente conosceranno il nostro autore Maurizio Gagliazzo però è giusto che io faccia la domanda di rito per coloro che non avessero il piacere di conoscere il nostro autore perché ovviamente la nostra intervista online girerà a lungo sul web per cui ci saranno sicuramente persone che non lo conoscono e quindi chiederemo a Maurizio Gagliazzo Maurizio Gagliazzo chi è Maurizio Gagliazzo? parla un po' di te allora io sono un sessantotenne ormai dal 3 di settembre ho fatto gli anni continui a portare benissimo bene grazie da un po' in pensione dopo aver fatto varie cose nella vita che non ho visto annoiare e mi sono scoperto scrittore recentissimamente insomma durante il lockdown l'ho già detto in altre trasmissioni infatti anche in te ma noi lo ripetiamo perché non sappiamo chi c'è dall'altra parte esatto esatto e mi sono trovato scrittore senza saperlo mi è venuta fuori questa vena io scrivevo bene a scuola ho fatto un annetto giornalista Repubblica ancora al lavoro ma negli anni anni fa e ho sempre scritto abbastanza bene ero un appassionato di fantascienza soprattutto della serie della mitica serie degli anni sessanta ai confini della realtà serie statunitense mitica 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 bellissima e come dico spesso nelle interviste che mi fanno una mattina la prima mattina di lockdown aprendo le finestre su piazza caricamento che è la piazza di fronte all'acquario a Genova dove abito che in genere è trafficata bus gente banchetti eccetera era completamente deserta poi ho portato il cane per i vicoli completamente deserti sembrava una realtà parallela quella che avevo vissuto fino al giorno prima e quindi mi si è sbloccato probabilmente un meccanismo ho cominciato a scrivere dei racconti dopo che ho scritto i due raccolte di racconti che ho presentato anche qui nel tuo programma gentilmente Maurizio non è che li hai a portata di mano perché se tu li avessi lì si potrebbero far vedere velocemente le copertine ce l'ho messo in una scatola ok però allora in questo caso ci potresti dire i tuoi titoli per cortesia perché sono sì allora li dico li dico anche se sono esauriti e quindi sono fuori catalogo però a noi interessa sapere il tuo background la tua produzione per conoscerti meglio infatti si chiamano il primo si chiama mondi in fra parentesi finiti e l'altro si chiama cose degli altri mondi erano editi una piccola casa editrice che si chiamava Montag editore casa editrice marchigiana e sto trattando con un rapporto seguro e non è escluso che ci sia una ristampa di entrambi i volumi entrambi i volumi in un unico volume per Natale per Natale o poco se fosse così si potrebbero rileggere perché appunto adesso non si riesco a trovare e qui niente questo quanto sono genovese come tu hai già detto San Doriano per cui bisogna sempre specificare a Genova non so se ti intervisto più perché questa cosa qua è grave oh Maurizio molto grave ma sai come dite sempre capito che sei genovese come dite sempre voi che siamo di un quartiere io sono andato a San Piero d'Arena non potevo che essere a San Doriano e poi sono sposato dopo lunga convivenza mi sono sposato il 18 di dicembre scorso e ho un cagnone che ha fatto gli anni ieri 16 anni e riporta bene questo è quanto quindi questo è il nostro Maurizio Galeazzo quindi porti sempre da sempre dentro la passione per la lettura che non puoi essere cioè ci deve essere per forza nessuna persona ti mette a scrivere devi avere la passione della lettura perché senza questa le spalle non c'è santo non si può fare e in modo particolare come hai detto la fantascienza io ho avuto appunto il piacere di intervistarti su entrambe le raccolte diciamo subito si tratta infatti di due raccolte di racconti e ricordiamo che sono comunque due raccolte piuttosto diverse lo vedrete perché questa cosa della ristampa mi fa molto piacere perché sono due raccolte molto belle di racconti io non vi dico nulla perché molti sicuramente non avranno letti fra il surreale e il fantascientifico e vedrete che le due le due raccolte le due antologie sono differenti perché in una si tende diciamo così più verso la fantascienza diciamola così in una proprio sul surreale ecco però come io dico sempre non voglio usare le categorie perché entrambe le raccolte sono contaminate però i racconti sono diversi a me piacciono molto i racconti lo sapete perché in poche diciamo così in poco spazio poche parole bisogna dare delle forti emozioni Maurizio è molto bravo in questo perché non tutti sanno scrivere i racconti ok e io voglio ricordare in questa sede che c'è stato proprio un Nobel sui racconti e Eris Mauro che era il genio del racconto dopo questo ho scritto il primo romanzo che si chiamava l'ultimo millennio e adesso questo era il secondo e adesso c'è esatto perfetto quindi Maurizio è partito dal racconto e poi si è voluto cimentare in un altro un altro tipo di scrittura allora il racconto non è una categoria di serie B tutt'altro il romanzo è un qualche cosa di diverso entrambi però hanno diciamo così le loro difficoltà perché i racconti vanno approcciati in un determinato modo i romanzi in un altro allora adesso entriamo nel cuore dell'interno e parliamo di 300 bambini e come al solito noi partiamo dalla prima di copertina base perché è la base noiosa allora Maurizio ci puoi raccontare qualcosa ci puoi dire qualcosa ovviamente senza rivelare troppo di questa magnifica copertina la vicino un attimo allo schermo guardate perché così si può distinguere un po' bene vedete qua questa luce colorata e poi sotto ok direi che sono alberi ma tutto un colore molto particolare molto particolare allora partiamo dalla copertina la copertina l'hanno fatta come in tutti i romanzi che ho scritto i grafici della Porto Seguro che sono veramente bravissimi anche quella che avevo fatto nel primo romanzo l'ultimo millennio era altrettanto bella e dal senso del romanzo nel senso che lì come hai notato ci sono una serie di alberi di boschi la pensiligna è una nazione è uno stato americano ricco di natura e di boschi e la luce conica che arriva dall'alto è la luce che vede la protagonista esatto che tu hai citato che ha fatto sparire il bambino nel 2020 il suo figlio nel 2002 e vent'anni dopo si riproporrà più volte col nuovo protagonista insomma che Josh tu hai detto due dei protagonisti principali io non ho detto il nome perché lo sai il nome lo lascia l'autore no no Josh si chiama Josh e la la donna che tu hai citato la seconda protagonista del libro insieme a un terzo che lei incontra che è John Blair al quale hanno rapito si hanno rapito in questo caso lui l'ha visto in diretta con questa luce conica che arrivava dall'alto lo stesso giorno in cui ha rapito Dean il figlio della signora vent'anni prima e il tutto si scopre nel corso del romanzo che sono stati rapiti una decina di bambini in giro per il mondo con le stesse modalità e Josh invece ha tutta una linea di racconto diversa da queste sparizioni nel senso che questo si può dire si legge dalle prime pagine del libro la sera in cui rientra dall'acquisto della bicicletta della steve di legno rientra a dormire vede nella sua camera un'entità che lui definisce una nuvola grigia come il fumo del barbecue e precisa da bambino che però non puzza di salsiccia e che a quanto si apprende nel corso del romanzo ha il compito di salvaguardare la sua sicurezza per un anno non diciamo di più in questo adesso ma magari a discussione dirò alcune cose di più perché poi c'è secondo me la cosa interessante del romanzo è me l'ha detto durante una presentazione una insegnante dell'asilo fra l'altro mi ha fatto molto piacere ha detto è reso molto bene il modo di pensare dei bambini infatti c'è una due piani diversi di ragionamento che fanno gli adulti e che fa il bambino infatti viene detto che questa entità che Josh dice di aver visto è chiaramente l'amico immaginario dice lo psicologo perché ha l'età evolutiva ha i problemi perché finisce l'asilo andrà a scuola nuova quindi si è creato l'amico immaginario e poi ci sono degli scienziati che vengono a parlare con Josh e c'è un pezzo che piace molto che gli chiedono insomma da dove viene tutte le spiegazioni del caso e poi dice appunto che è venuto per salvaguardare la sua sicurezza per un anno e lui dice uno degli scienziati gli chiede ma dopo un anno cosa succede perché dopo un anno cosa succede e io sono guardi il buono e lui ha chiesto che è la risposta classica che darebbe a un bambino la più logica la più logica infatti la più logica la più logica Maurizio tu hai detto qualcosa insomma della trama hai accennato anche qualcosa dei personaggi sono curiosa però un po' di sapere anche qualcosina sulla genesi come è venuto di scrivere la genesi come è venuto di scrivere i 300 bambini le gene sono strane perché per esempio quella dell'ultimo millennio era nata da un racconto in questo caso che avevo presentato a Spottorno a un concorso che traguardava la fine dell'ultimo millennio della Terra e poi avendo fatto quattro paginette ho detto l'allargo e magari c'è fuori romani infatti erano i film in questo caso qui reminiscenze fantascientifiche degli anni 60 letture volere perché poi si capirà nel corso del romanzo un po' demitizzare questo alieno tipo et bello telefono casa come dico sempre sono una manica di stronzi scusa il termine gli alieni fanno i loro interessi e sono abbastanza egoisti insomma pur apparendo invece amabili nel corso del romanzo però appunto è uscito così nel senso era una cosa probabilmente che da ricordi giovanili c'avevo già dentro e è piaciuto metterlo per iscritto insomma le sparizioni aliene sono sempre state abbastanza note nella letteratura e nella cinematografia quindi e quindi dare un po' di spessore ai personaggi che vedevano queste cose qui mi è mi è piaciuto benissimo guarda a te è piaciuto scriverlo questo romanzo e devo dire che a me è piaciuto tantissimo leggerlo perché io l'ho letteralmente bevuto e parto dicendo questo che è un libro di fantascienza molto delicato molto come potremmo dire molto raffinato che può essere letto da young adult in alto quindi non vi è nessun elemento che precluda la lettura non so a un ragazzino assolutamente quindi un libro adatto forse non può essere letto da pillon perché c'è il secondo personaggio che è dichiaratamente omosessuale guarda Maurizio io sto parlando di persone normali è così di lettori io non penso che pillon si interessi troppo di fantascienza speriamo di non almeno quello che c'era un background un po' diverso dal nostro perché io sono vissuta mangiando pane Asimov e Gregory non penso che pillon abbia lo stesso mio background ho studiato il cervello umano quindi per me cioè il sogno dello scienziato il sogno del biologo ma anche dell'astrofisico anche se non lo ammettiamo è quello di trovare la vita nell'universo magari non l'ammettiamo però credimi che è così poi ci sono tantissimi scrittori amanti della fantascienza che della scienza proprio non conoscono nulla però a loro piace questo genere e vanno con una fantasia la scrivono benissimo e sono in grado di gestire molto bene la materia ecco come hanno fatto anche grandissimi autori del passato li abbiamo già nominati giulverne che accipicchia ha reso credibile realistico ciò che non lo era ciò che non era reale anzi ha avuto delle intuizioni pazzesche vabbè pensiamo anche a Leonardo quello che è andata in più quindi ok giustamente come ha detto Maurizio qui ci si rifà proprio a quella che è diciamo così un po' la fantascienza classica che abbiamo già un po' nominato in questi autori diciamo il rapimento da parte dell'alieno è diciamo così un classico però in questo libro Maurizio ha spoilerato un po' un elemento e giustamente perché bisogna incuriosire un po' i potenziali lettori quindi ci parla di una presenza aliena molto sudola ok che all'apparenza è buona ok ma vedrete vedrete cosa combinerà nel senso che comunque siamo anche pieni di letteratura fantascientifica in cui l'alieno è cattivo non so abbiamo visto in tante serie tv per amor del cielo anche soprattutto quelli degli anni 70 80 però qua è ambiguo molto ambiguo e questo lato dell'alieno verrà fuori diciamo così alla fine ma in fondo non è è una vera e propria cattiveria io questo lo voglio sottolineare quindi maurizio ha spoilerato qualcosa giustamente ma non tutto perché questa cattiveria tra virgolette ha ha una sua motivazione certo ok quindi questo è un elemento importantissimo poi è chiaro cosa ci fa riflettere un libro del genere un po' quanto siamo in fondo diciamo così soli nell'universo no? perché noi abbiamo questo sogno di avere di incontrare la vita però lo sappiamo che siamo radicati qua perché e mcquadro sappiamo non riusciamo a superarla quindi se si tratta di varcare certe soglie ce l'ha già detto bello chiaro margherita che ce l'ha cantata in tutte le salse finché noi non riusciamo a avere questo ciao ciao poi voglio dire se anche trovassimo che ne so una forma vitale sulla luna o su marte sarebbe una scoperta bellissima avrebbe ci porterebbe molto in avanti però un ritorno proprio pratico immediato non so fino a quando pensiamo a tutti i problemi che abbiamo sul nostro pianeta e ai livelli in cui siamo perché come dico sempre non è che l'uomo sia tanto buono che abbia anche una corta tende ad avere poco rispetto di sé ok come homo sapiens sapiens quindi non ha rispetto di se stesso primo non ha rispetto di se stesso e quindi non ha rispetto del pianeta quindi non c'è rispetto per le generazioni future quindi l'umanità è allo sbando in questo momento lo è sempre stata lo è già da quando è comparsa la specie umana è una specie molto particolare che si ritrova all'apice dell'evoluzione lo sappiamo per vari motivi perché è intelligente ma anche molto aggressiva e molto egoista ok l'apice dell'evoluzione che conosciamo noi poi da buon fantascientista la nostra del nostro pianeta quindi all'apice della nostra evoluzione biologica riguardante il nostro pianeta perché noi non ne conosciamo altra e ci sono voluti milioni 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 di anni prima di arrivare a noi perché milioni di anni ce l'ha messo già per fare un pluricellulare ma anche solo per arrivare a una mosca che è un essere pluricellulare complicatissimo quindi cioè la natura ha fatto un grosso sforzo scusami ho detto questo perché a un certo punto nel libro c'è questa entità che appare a un professore dell'istituto astronomico di Allegheny dell'osservatorio astronomico di Allegheny poi ti dirò un aneddoto simpatico sull'osservatorio e lo incontra e gli spiega chi è perché è venuto poi gli fa sparire ovviamente la memoria per evitare che diffonda la cosa e lui dice che insomma l'evoluzione che questa entità questa razza aveva avuto era per fare un esempio diceva quando voi nella terra avevate il Cro-Magnon che cominciava a rarare la terra noi facevamo già le astronavi quindi per dirti quando ti ho detto appunto il massimo dell'evoluzione è nostra si intendeva quello la cosa l'aneddoto simpatico di questa cosa qui è che io ho presentato il libro quando ero uscito alla cooperativa la Coplo in Liguria e c'era con me Walter Riva che è il direttore dell'osservatorio astronomico del Righi c'ero io ero presente eh questo mi ricordo amico e collega dell'università e e lui mi mi ha confessato ha confessato eh questa chiacchierata che conosceva l'osservatorio astronomico di Allegheny ovviamente come nome e come notorietà ma non sapeva che era specializzato in esopianeti cioè pianeti di fuori del sistema solare quindi ne sapevo più io di lui ma cioè questa qui banalmente e lo dico sempre nelle interviste che faccio perché sono molto puntuali e specifiche le mie le cose che io scrivo come come battuta dico sempre che se vi prendete la riga di andare su google map e cercare la casa di Josh la trovate c'è la villetta al fianco del lago e ci è arrivato davanti alla porta perché con con la rete si riesce a trovare qualunque cosa su tutto e io cito sempre un mostro sacro Umberto Eco che diceva che ovviamente sapere tutto è impossibile lui stesso ammetteva di non poter sapere tutto l'importante è sapere cosa cercare dove cercare e con la possibilità che la rete dà noi pensiamo che uno scrittore famoso come Salgari che ha scritto dalla Malese non si era mai mosso da Torino noi aveva un un amico che invece girava un amico che girava gli spiegare va raccontando un po' di cose noi per fortuna abbiamo a nostra disposizione la rete per cui se tu vai su Google ai digiti osservatorio astronomico di Allegheny vedi c'è scritto che è specializzato in mesopianeti eccetera eccetera probabilmente Walter Riva non aveva guardato la specializzazione dell'osservatorio quindi ne sapevo di più del direttore dell'osservatorio di Arrighi Maurizio come si può dire gli artisti a volte hanno di quelle intuizioni intuizioni che poi sono convalidate dalla scienza ma guarda che è successo tantissime volte cioè l'artista va oltre poi immagina e poi è convalidato ma pensa solo io l'ho detto forse già altre volte quello che noi abbiamo visto con un microscopio elettronico con i grossi telescopi cioè quello che immaginavano gli antichi e poi sono state tutte diciamo comprovate dalla scienza andando avanti con la tecnologia queste ipotesi sono state proprio confermate quindi l'uomo spesso va avanti a ipotesi va con l'immaginazione e talvolta c'è azzecca e c'è azzecca da questo da questo libro emerge sicuramente questo elemento che hai a cui hai accennato cioè questa figura di bambino e la mentalità del bimbo come ragiona il bimbo il bimbo ragiona in maniera diciamo così semplice schematica però ragiona senza filtri e quindi spesso arriva a delle conclusioni come potremmo dire più velocemente che un adulto assolutamente ha una logica perfetta e poi assolutamente con il libro si è portati a riflettere su l'umanità in generale sarebbe molto meglio che l'uomo avesse un po' più di consapevolezza di sé e si desse una bella regolata perché stiamo andando in una direzione che ahimè se andiamo avanti così non c'è ritorno e lo vedrete in questo libro siccome noi è sicuro che nell'universo è vista per forza qualche altra forma di vita che molto probabilmente noi o anche i miliardi di generazioni future magari non conosceranno ma che la vita c'è è sicuro però in un certo senso quello che può essere una vita ipotetica anche più avanzata della nostra può avere chissà quali problematiche no? e quindi la buttiamo lì come elemento perché è un elemento bello cioè che rende il libro così così diciamo divertente perché il libro si attiene cioè fa volare con la fantasia e si tiene legato dalla prima all'ultima pagina cioè le cose si pian pianino si srotoleranno e si arriverà a una conclusione che si prenderà in contropiede perché non è che la trama è un mio classico è un classico del nostro Maurizio Cariaccio è questo che rende bello il libro questa fine assolutamente non scontata e quindi sì siamo in quella che è la diciamo così la fantascienza classica però la fantascienza cioè il bravo scrittore di fantascienza è colui che ti stupisce colui che ti prende in contropiede è colui che ti fa ragionare su di te e poi ti fa andare oltre e quindi Maurizio riesce è un bravissimo scrittore di fantascienza infatti Maurizio lo sa che ha il buono per tornare ad attore domiciliare perché a me la fantascienza piace tantissimo adesso Maurizio io ti faccio innanzitutto se hai da commentare ancora qualcosa su queste mie osservazioni e poi se ci puoi dire qualcosina su magari la tua tecnica narrativa perché secondo me è importante dire qualcosa di questo sì dunque sulle cose che abbiamo detto sì la fantascienza è il modo degli scrittori o dei sì sono due gli scrittori soprattutto in una certa epoca di raccontare la realtà senza incorrere nelle pieghe della della repressione penso a George Orwell 1984 scritto nel 48 quindi come lui pensava che sarebbe voluta la società inglese la buona socialista quale era però non poteva dirlo in maniera diretta allora ha scritto un libro di fantascienza oppure quando tu appunto dici la fantasia di quelli che scrivono di fantascienza una delle cose che a me ha lasciato senza parole da sempre appena l'avevo letto era fare nel 451 di Bradbury in cui lui fa fare gli incendiari dei libri ai pompieri cioè uno al quale viene in mente che i pompieri che sono deputati nella società normale attuale a spegnere gli incendi fossero quelli che invece danno fuoco ai libri secondo me è un genio assoluto cioè perché deve avere una mentalità geniale sulla tecnica narrativa io ho scritto i romanzi i racconti scusa alcuni in prima persona altri in terza persona poi per la riedizione della Porto Segura le ho messi tutti in terza persona i romanzi sono scritti in terza persona perché ho visto che estraneandomi un po' dal personaggio forse riesco a dare più a connotare maggiormente i vari personaggi del libro ed è un modo di scrivere secondo me molto semplice quando tu dici che può essere fruito da tutti io ho letto appena adesso un libro che mi ha regalato di fantascienza un po' particolare mio figlio per il compleanno è descritto in maniera veramente complicata nel senso che ci vuole una fatica pazzesca riuscire a leggerlo a collegare le frasi il mio sono libri che forse addirittura banali diciamo si leggono si leggono bene non hanno grossi salti adesso va molto di moda il salto spazio temporale quindi spesso il lettore deve saltare di qua e di là non è il tuo caso ecco no 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 sono libri tranquilli possiamo anche definirli termine che secondo me non è disprezzabile in sé libri da spiaggia da ombrellone da estate insomma da leggersi tranquillamente senza pur facendo pensare le cose che dicevi tu però che si leggono tranquillamente bene insomma certo oltretutto voglio aggiungere anche questo che c'è un qualcosina non vi dico quale che a me mi ha messo in testa un po' la pandemia perché un pochino mi ci ha fatto pensare buon chiudo la parentesi ecco a questi punti Maurizio io ti chiedo una una partita ci leggeresti tu un breve strato del tuo libro ma hai detto che c'è un pezzetto che ti piace in modo particolare a cui sei particolarmente affezionato sì posso leggervi visto che l'ho citato il dialogo con gli scienziati allora basta provarlo perché tanto tu intrattieni il pubblico vai tranquillo vai tranquillo per carità allora ora allora qui sostanzialmente il padre di Josh quando Josh dice questa creatura che Josh stesso stesso chiama XC57 e scende con delle coordinate spaziali scritte su un foglietto da lui e il padre scrive a questo osservatorio di Allegheny i quali gli rispondono spiegandogli che hanno con loro telescopio hanno messo le coordinate hanno visto questo punto nell'universo che è un pianeta che loro non conoscevano posso leggere questo dialogo fra Josh e gli scienziati allora Josh guardò incuriosito entrò in casa quel numeroso insieme di persone a lui sconosciuto ma l'attenzione si focalizzò immediatamente sulla più giovane del gruppo che era la figlia di una professoressa cui innamoramento a prima vista ma è bellissima sussurrò l'orecchio del padre Jasmine gli si fece incontro presentandosi e Josh vinto l'iniziale imbarazzo le chiede se voleva salire a vedere la sua cameretta la bambina annui e lo seguì per le scale le discesero dopo una decina di minuti e lei rivolta alla madre accennò un rapido movimento negativo con il capo del quale scusa la professoressa nessuno si accorse nel loro gergo non verbale stava a significare niente di anomalo da segnalare allora Josh iniziò il professor Rubini ti piacerebbe vedere da dove viene il tuo amico come si chiama x57 ma io lo so da dove viene da Kainos rispose appuntamente il bimbo sì questo lo so me l'ha detto il tuo papà ma ti piacerebbe sapere dov'è so anche questo sta nel triangolo sulla replica anche un po' infastidita ok ok sorriso Rubini allora adesso facciamo una magia è rivolto al dottor Brian che nel frattempo aveva montato una strana apparecchiatura disse Josh hai pronto a far partire l'accrocchio? sei capo fu la risposta schiacciato un interruttore su un grosso display come per incanto apparve una schermata nera che lentamente incominciò ad affollarsi prima di decine poi di centinaia infine di migliaia di microscopici puntini di decena oh fece Josh stupito affascinato e ora la vera magia aggiunse Brian inserendo le coordinate in suo possesso e cliccando su un pulsante come se lo zoom di un obiettivo avesse iniziato a restringere l'immagine ai presenti parla di partecipare a una corsa perdifiata attraverso l'universo indirizzata verso un punto preciso dopo pochi secondi la corsa rallentò fino a fermarsi a inquadrare un oggetto azzurrino poco più grande della capocchia di uno spito et voilà disse sorridendo la dottoressa accen ecco a voi Gainos o quello che è la galassia del triangolo allora Josh che ne pensi? chiede soddisfatto della performance il professor Rubini wow forte fu l'euforico commento relativo a ciò che aveva appena visto e se ci fermassimo una mezz'ora una mezz'oretta per mangiare il sandwich che ho preparato propose Judith anche per semperare la carica di emozioni che si erano accavallate l'offerta fu accolta con entusiasmo all'unanimità allora Josh chiese al vice direttore dell'osservatorio tra un morso e l'altro di un panino ripieno di tacchino e maionese raccontaci un po' di questo tuo nuovo amico speciale come ha fatto ad arrivare fin qui da così lontano e chi lo sa una notte l'ho trovato in camera mia ha cominciato sotto la finestra che mi stava guardando fu la banale risposta e avete cominciato a chiacchierare intervenne la professoressa Fischer no perché anche se non aveva la faccia brutta era uno sconosciuto allora ho gridato subito aiuto quando sono arrivati mamma e papà lui è sparito ah quindi si fa vedere solo da te credo di sì quando c'è qualcun altro lui sparisce e questo perché secondo te chiese il dottor Stenbaum che ne so bisognerebbe chiederlo a lui forse certo è evidente riprese la direzione del dialogo la Fischer ma quando parlate come fate a capirvi parla la nostra lingua si ferma a pensare un attimo Josh non è che parla proprio lui non dice niente ma io lo sento nella mia testa comunicazione telepatica intervenne nuovamente Sandelman rivolta la professoressa direi che l'avevo intuito gli rispose acida io glielo ho detto subito a papà e mamma gli interruppe Josh è come una nuvola grigia come il fumo che fa il barbecue e io non ho mai sentito una nuvola che parla giunse con una logica inoppugnabile anche questo è vero ne convenne ridendo Rubini però ti ha detto perché è venuto a trovarti proseguì il professore più o meno rispose Josh ma non so se ho proprio capito bene prova a spiegarle mi ha detto che il suo compito è seguirne per un anno stando attento che non mi accada niente di brutto e tra un anno poi cosa dovrebbe succedere chiese incuriosita la dottoressa C boh mica glielo ho chiesto ovvio è un bambino quindi risponde con la sua perfetta logica la sua logica perfetta quindi la fantascienza cioè non è solo immaginazione creatività cioè la fantascienza chiamiamolo un genere che può andare verso la metafisica ma può andare anche come ha detto Norizio verso la la critica sociale perché la fantascienza può colpire molto duro molto duro ci sono dei pilastri proprio della fantascienza ce l'ha citato uno che colpiscono duro a livello politico a livello politico etico morale diciamo ecologico quindi la fantascienza è un genere molto tosto ok e se l'autore è bravo da questa diciamo da questa sua creatività può lanciare veramente dei grossi strati adesso Maurizio io ti chiedo solo una curiosità tendenzialmente tu collochi i tuoi romanzi cioè spesso i tuoi romanzi in amica allora domanda che mi fanno regolarmente a tutti mi sembra giusto e io non te l'ho mai fatta quindi mi sento il dovere di fartela almeno una volta concedimela ecco allora li colloco in America perché nell'immaginario collettivo nostro negli anni 60 la fantascienza era americana cioè la cinematografia soprattutto fantascientifica io ricordo a livello europeo solo metropolis di Fritz Lang dei tedeschi insomma quindi oppure soprattutto altre cose ma non di fantascienza pura la fantascienza pura da giorno dei trifidi a l'invasione del utacorpi a la guerra dei mondi sono tutti svolti in America giusto per farti contenta il prossimo romanzo è ambientato tutto a Genova invece che ho scritto oh ma sai che sono tantissime anzi in due Genove diverse parallele cavolo non vedo l'ora di leggere faccio anche questa parentesi eh gli americani hanno anche tanti tanti sghei quindi possono pagare tutti quei mega effetti diciamo così quegli effetti speciali che solo loro costano miliardi perché questi mega film pensiamo solo a Nolan no? qui non è fantascienza ahimè non so cioè nell'ultimo non è fantascienza è la triste realtà è un timer ma non l'ho visto ma l'ho sentito merita perché però secondo me è mio parere è bellissimo però si poteva arrivare anche allo stesso messaggio spendendo un po' meno perché io ritengo che quelle somme così esagerate siano un po' poco etiche anche se loro ne hanno dei ritorni astronomici devo dire che Nolan adesso stanno facendo una serie su Sky dei film di Nolan è una bella testa è uno dei migliori registri di fantascienza all'ultimo tempo e ti faccio notare che è un inglese eh sì 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 anche se vabbè l'Inghilterra è un po' un tutt'uno con gli Stati Uniti e in fondo ragazzi parlano la stessa lingua eh questa è una cosa comunque ti faccio una ti racconto un aneddoto carino su sull'America e i 300 bambini io come tu sai avevo un bel and breakfast che adesso ho chiuso dal primo di gennaio eh arrivano due ragazzi americani eh in villeggiatura e prendo i documenti vedo che uno è dalla Pensilvania ma ho appena finito di scrivere 300 bambini anche gli dico tornando su ritornandogli i documenti gli dico guardi appena scritto un romanzo poi l'ha preso tra l'altro appena scritto appena scritto un romanzo che si svolge in Pensilvania no? lui mi guarda e fa dove? e gli dico pensando cittadini 80 mila abitanti scrento così fa 20 chilometri da dove sono nato io quando si dice le cose fantascientifiche no ma la 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 per me il caso non esiste allora a questi punti ti chiedo hai dei progetti? qualcosa hai già accennato? sì allora tanto sto facendo un po' di tour in giro sarò domani infatti fortunatamente è stato oggi perché domani non hai potuto partecipare alla trasmissione domani sono a Trento dopo domani sono a Verona ottimo a fine mese invece sono al cosa che mi fa molto piacere al Moncaglieri Festival Jazz con un mio racconto sul jazz delle raccolte che ho fatto e e poi il questo lo do in anteprima il 17 di ottobre presenterò il mio nuovo libro che si chiama Le Due Vite di Damiano Carletti con la mia tratta Genova ai Luzzatti a pomeriggio Maurizio sei sei un vulcano sei sei un vulcano quindi mi diverto finché mi diverto vado avanti ma è così che deve essere è così infatti infatti cioè se uno io lo dico sempre se uno non ha niente da dire eh sì è certo hai qualcosa da dire si diverte vai il problema è che anche quelli che non hanno niente da dire continuano a parlare questo è ovvio Maurizio questo ahimè lo abbiamo detto la natura umana è quello che è se no non saremmo a questi punti infatti io lo dico sempre se mettessero l'etica e la psicologia la sociologia come materie obbligatorie nelle scuole come il latino saremmo più fuori e si viverebbe meglio solo che se ne infischiano è vero sì non fanno a studiare le guerre puniche ma nessuno conosce la psicologia nessuno eh l'etica continua ad essere un qualche cosa di astratto invece dovrebbe essere un qualcosa che unisce tutti gli uomini al di là del credo religioso e politico finché non riusciremo ad avere questo sarà sempre qualcosa adesso tiriamoci un pochino sul morale con due domande pratiche ma importantissime illuminaci di me insomma Maurizio e quindi faccio queste due domande tutte insieme dove possiamo acquistare i 300 bacini di Porto Seguro Edizioni dove li troviamo i social Maurizio nei shop online tutti i shop online e nelle librerie chiedendo ci vuole magari un po' di tempo per farlo arrivare ma per esempio la libreria Porto Antico Porto Antico ne ha delle copie quindi potete trovarle già social rimango fedele a Facebook vi trovate sicuramente su Facebook senza nessun problema fra l'altro ci sono anche fotografie o interviste tipo questa ma anche altre cose o spezzoni di presentazione dei libri se vi va e il mio indirizzo e-mail a cui rispondo a chi mi vuole scrivere è maurizio.galeazzo chioccio.gmail.com facilissimo da ricordare benissimo quindi non avrete nessun problema né a trovare e quindi acquistare i 300 bambini che vi ricordo Porto Sicura Edizione né a contattare Maurizio Galeazzo e sono sicura che Maurizio Galeazzo sarà molto contento di ricevere dei feedback o delle domande lui vi risponderà contattate Maurizio Galeazzo e ne sarà molto felice perché lo dico sempre scrivere è una faticaccia intellettuale fisica dà molta soddisfazione però ci vuole coraggio a scrivere perché si deve comunque esporre al giudizio degli altri nel libro c'è la propria anima quindi scrivete a Maurizio Galeazzo a questi punti prego mi dimentico sempre perché ho autoprodotto semplicemente per i costi perché mi costa pochissimo una mia autobiografia che ti omagerò quando ci vediamo ma grazie che si chiama punti di vista sette narrazioni per una sola vita che è divisa a tematiche cioè sigarette l'alcol la musica e spazi anni 70-80 un ritorno alla giovinezza sei fantastico sei veramente un artista anche questo si può anche questo si trova online oppure alla libreria portantica allora cercate anche l'autobiografia allora io attendo l'omaggio con delta sì 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 senz'altro non vedo l'ora di leggere perché mi incuriosisce perché chiaramente ti conosco tanto però è il periodo di tutte e due non mi racconta magari è il periodo di tutte e due tu eri un po' più giovane probabilmente ma di me ma ma non tantissimo guarda non vedo l'ora di leggere guarda lo leggerò con molti piacere allora io a questi punti noi siamo quasi a termine di questa nostra chiacchierata che per me è stata una chiacchierata piacevolissima vi già premetto che Maurizio Galeazzo tornerà con noi prossimamente mi metto un attimo gli occhiali per darvi gli appuntamenti la prossima settimana con la prossima settimana dovremmo tornare un po' a quella che io dico la normalità e tra entrambi autori e domiciliari perché a settembre ho fatto una corsa enorme per mettermi in careggiata quindi ho intervistato 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 adesso cerchiamo di arrivare a organizzare due interviste a settimana e io sono già molto contenta di questo se riusciamo a fare questo per me è già una grossa soddisfazione quindi vi do appuntamento alla prossima settimana quindi martedì 3 ottobre sempre alle ore 17 e saranno con noi ben due autori perché presenteremo un'antologia di racconti e quindi avremo con noi Margherita Rita Gestro e Marco Gaglione poi avremo mercoledì 4 ottobre sempre alle ore 17 uno scrittore Giuseppe Redondi quindi saluti finali io saluto e ringrazio tutti coloro che hanno seguito la diretta ringrazio tantissimo Minerva Glicine per essere stata qua con noi per averci mandato i suoi saluti e la ringrazio ancora per il suo contributo proprio diciamo così pratico tecnico alla mia attività ringrazio e saluto anticipatamente coloro che ci seguiranno di ferita e poi saluto con tanto tanto affetto il mio scrittore di fantascienza Maurizio Galeazzo grazie Maurizio per essere stato qua con me questa sera grazie a te tanto ci vediamo anche del viso tra pochi giorni tra qualche settimana esattamente perché non vi diciamo cosa ma Maurizio Galeazzo mi accompagnerà quindi io sono molto contenta molto onorata di avere Maurizio Galeazzo che mi affiancherà durante un evento non vi dico quale non vi troverete sui miei social quindi io e Maurizio Galeazzo saremo insieme a questo evento io non vedo l'ora perché si trasta della presentazione ovviamente con il libro perché è ovvio noi noi bazzichiamo tra i libri ma non vi dico quale vi lascio un po' di spazio quindi Maurizio noi ci vediamo presto e mando a tutti un grosso bacio da Genova e anche Maurizio ci manda i suoi saluti da Genova quindi ragazzi piazza caricamento piazza caricamento ma ragazzi ciao un salutone da Genova un bacio a tutti e alla settimana prossima grazie a tutti